Siamo sempre a Rivalta, non ci siamo spostati, siamo sempre a Serre d'Estate e seguendo bene il programma abbiamo un'apertura molto importante, un omaggio, un omaggio come abbiamo sentito a Michela Murgia e a realizzare questo omaggio in musica e parole ci saranno Chiara Flora, che abbiamo già conosciuto anche in precedenza, e Andrea Zenoni. Benvenute! Grazie, grazie mille. Come vi siete preparate per questo momento? Anche un po' solenne se vogliamo, perché si tratta di un omaggio importante. C'è da dire che questo momento è nato prima dell'idea di questa edizione, cioè ancora prima di decidere il tema abbiamo deciso quest'anno vogliamo che si apra con un omaggio a Michela, quindi per noi è super emozionante poterlo fare, quindi è nato proprio concepito come prima cosa dei mesi e mesi e mesi che l'abbiamo immaginato. Sì, prima ancora che decidessimo il tema in realtà, quindi era proprio una cosa che si voleva già fare prima, comunque che alleggiava, poi quando è partita un po' l'idea dell'edizione di quest'anno, in realtà abbiamo un po' sognato in grande e speravamo di poter, insomma, invitare qualcuno anche proprio a parlare, a presentare gli ultimi libri, insomma. E poi abbiamo detto, vabbè, comunque questo momento facciamolo di comunità e quindi l'abbiamo un po' creato insieme, ecco. E alla fine sarà un momento in cui c'è una parte, diciamo, panoramica un po' di ciò che ha scritto, che terrà anche Beatrice Scolfaro, e poi ci sarà una parte in cui un po' io e Andrea, anche con tanto storytelling e musica, cercheremo un po' di evidenziare quali sono quelle finestre sul mondo che ci ha aperto Michela e che non siamo più riusciti a chiudere poi dopo che lei ce l'aveva aperte. Fatemi dire una cosa, da quando Michela Murgia non c'è più, in questo paese, devo dire per fortuna, perché insomma ci sono stati anche dei tentativi, devo dire, anche abbastanza, diciamo, tristi, diciamo, di infangare la sua figura, però in ogni caso si è raccontato molto e si è continuato a raccontare, ad amplificare la voce di Michela Murgia, no? Vi chiedo, ti chiedo, Andrea, in particolare, diciamo che tipo di lavoro avete fatto soprattutto sui testi, perché ovviamente la produzione letteraria, editoriale, giornalistica anche di Michela Murgia e pressoché sconfinata, cioè come in base a cosa avete scelto i testi che avete scelto? Allora, diciamo che come diceva Chiara, la parte più del suo percorso letterario, di produzione letteraria, la presenterà Beatrice, quindi lei farà questa panoramica sulla sua, diciamo, letteratura. Noi invece abbiamo un po' cercato di prendere alcuni dei suoi saggi più importanti e quelli che ci, insomma, ci servivano proprio per lanciare il tema di serie d'estate di quest'anno e quindi Asterisk, declinazione umana al futuro. E quindi abbiamo scelto in realtà, possiamo partire da Stai Zitta, in particolare, dove c'era già praticamente tutto quello che ci potesse servire e poi abbiamo, cioè, prenderemo anche da altri, soprattutto poi l'ultimo, ricordatemi come vi pare, che già è una, insomma, un sunto, ecco, di quello che lei ha detto e quindi su quelli, diciamo, sostanzialmente abbiamo scelto quelli. E poi c'è la musica, perché mentre facevamo, diciamo, i blocchi precedenti di questa diretta, c'era un'arpa, c'era un ukulele, se non sbaglio, c'erano delle voci meravigliose, che sono le voci di Chiara e di Andrea. Insomma, anche lì, la musica, invece, di che tipo è questa musica? È roba vostra? È roba di altri? Di altri. Tra l'altro suonano benissimo, quindi... Una garanzia. Anche questo è una garanzia, diciamo, anche della qualità, diciamo, di questo omaggio a Michela Murgia, che vorrei aggiungere anche inedito rispetto al solito. Sì, diciamo che noi siamo anche musiciste, per noi quel linguaggio lì è un linguaggio importantissimo e pensando di fare questa cosa l'abbiamo fatto anche in maniera molto emotiva, quindi cercheremo di portare del contenuto, ma allo stesso tempo portare anche, appunto, la risonanza che ha avuto per noi. E quindi, immaginandoci questo momento, abbiamo voluto che ci fosse anche la musica. E in realtà abbiamo scelto... abbiamo fatto fatica a trovare delle cose italiane e non ci saranno cose italiane. Volevamo dei brani che... Non è necessariamente un male. No, non è necessariamente un male. Volevamo dei brani che fossero sul femminismo, principalmente, sulle intersezionalità. È un brano che porteremo, High Women, è proprio pienamente intersezionale e femminista, quindi ogni verso è una voce di storia di donna diversa, da migranti, da donna migrante, alla donna attivista che viene perseguitata in quanto attivista. È una canzone bellissima. Porteremo un canto catalano, femminista. E poi abbiamo scelto una canzone che invece non è, diciamo, dichiaratamente femminista, ma per noi è invece importantissima per il messaggio che vogliamo lanciare, che è quello del... Michele ha lanciato una voce. È stata la prima, anche con coraggio, a tenere aperto un faro su determinate tematiche, quotidianamente, anche sui social, eccetera. Lei ha aggiunto la sua voce e la sua voce è stata proprio... alla sua voce si sono aggiunte altre voci, anche noi abbiamo avuto il coraggio di aggiungere le nostre. Quindi è una canzone che proprio è sull'aggiungere una voce all'altra e di fatto cambiare il mondo, anche attraverso il linguaggio, attraverso le scelte che facciamo con la nostra voce. Aggiungo che, per esempio, magari alcune canzoni italiane che potrebbero anche rispecchiare sono più... cioè, di quelle che conoscevamo noi, ci sono tante canzoni magari sulla violenza di genere, sui femminicidi, e noi invece stavamo cercando proprio un canto che fosse, in italiano non l'abbiamo trovato, ecco comunque che fosse appunto legato proprio invece alla potenza della sorellanza e quindi alla lotta contro il patriarcato. Beh, direi che è un'apertura, diciamo, migliore di questa, Dennis. Un'apertura col botto. Tra l'altro noi sappiamo che siamo in procinto di assistere a questa apertura perché alle 18 ufficialmente si comincia, quindi dobbiamo lasciarle andare a fare gli ultimi check, già ci stavano chiedendo di chiudere, quindi però grazie per essere state con noi e quindi, insomma, ci vediamo là dietro. Grazie mille, a voi. Noi intanto ci prendiamo ancora un passaggio con la musica, tra poco continuiamo a raccontare Sere d'Estatio 2024, tra poco.